CIAO CANALEEEE Allora, alcuni di voi hanno notato, cioè se voi seguite lo youtuber OmiaTol, quel grandissimo youtuber Nel suo ultimo video che ha fatto, cioè rimorchiare i cosplayer Se voi andate al minuto 5 e 10, ci fiamano Che non si sa che cazzo c'entriamo in quel video di p***a Nei commenti di quel video ci stanno un sacco di commenti riguardanti a noi Adesso noi li leggeremo e risponderemo a tutto quello che ci dicono Infatti Ci dicono 5 e 51, ma quanto hanno pippato per essere ridotte così? Allora, prima di tutto noi... no Seconda cosa non è che se parliamo in un modo strano allora non Uno ha scritto, ha risposto Aha, mortacci Quanto hanno fumato Io si fumato Che tamina qua, aha Ragazzi, non è niente di tutto questo Noo Figura di merda, cuore, LOL, grande OmiaTol Se voi c'è la figura di merda a chi c'è? C'è A quel c***o Dica a noi 5 e 32, Ricky Alvarez Ma chi è Ricky Alvarez? Solo c'è Ricky Alvarez Ricky Alvarez Ma cosa è? Ma non solo questo Oh no 5 e 30 Ma come chi sei? Punto interrogativo, punto esclamativo Giuda Ma cosa? Riassunto di questo video Giorgio è pelato Sì, sì, questo lo approviamo Lo approviamo, se volete vi mettiamo una foto Tu sei il fratello di Giorgio Chi è questo genio? Uno che si chiamarei Stavino Si chiamarei Stavino Uppì Ah ecco perché a me se mi piace C'è No Commenti Giorgio Scritto da Goldust Che salutiamo Ciao Com'era chi era? Goldust Veramente Ciao Che c***o è Giorgio è un pelato Che c'è scritto Dall'Octanergua Ma Erano poco fatte quelle a cui dovevi fare una sorpresa Ah 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 Eh Alessandro e digi Che digi? Ma che digi? Ma che digi? No 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 Ma che c***o vuoi? Rasta di merda Oh mio dio era fascista quello pelato Noo era il fratello di Giorgio Ma infatti La donna dà la voce merodiosa che ispira simpatia e gioia Oh ma Io ti avevo già visto un Black Peppe Ehi Io rompì pure i coglioni ma che vuoi Ma che vuoi Ma infatti Black Peppe vedi che andava Ah 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 No ogni volta che leggo pelato sai Ormai ho fatto venire la lista Hornacera Quelle del fratello di Giorgio mi sa che si riempiono le sigarette di droga D maiuscola due punti Noo la D maiuscola due punti no Demo del c***o che gliel'hanno detta tanto Venico! Venico, ma che fai? Ah, ma è uno famoso, sbamma! Sbamma di che? Che far chi ha? 5 e 40, no, quelle per me sono fatte dure Fatte, non lo so, però dure, cioè a me sembra piacere Ehi, no! No, mi dispiace, siamo morbide Ah, questa si chiama TumiBest333, ne sa la metà del diavolo Ma chi sei? Amici, questo era tutto Ah, Massimiliano Marino, un frocio Regolo sempre Comunque... Vabbè, ciao amici Ciao amici Dobbiamo censurare Perché? Perché non possiamo mettere un video dove lo insultiamo tutte a te Ah, ho detto a cantare di me Vabbè